Dieci persone denunciate dalla polizia di Ragusa, in particolare sette, di cui tre minorenni, tutti stranieri per il reato di rissa avvenuta lo scorso 15 febbraio. Episodio verificato nel centro storico di Ragusa, vicino una pizzeria d'asporto dove gli agenti avvisati da alcuni passanti sono stati informati di due persone altamente ubriache che infastidivano la clientela, in particolare una ragazza particolarmente presa dai fumi dell'alcol senza mascherina, continuava a insultare i passanti senza un reale motivo. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato una breve fuga terminata qualche minuto dopo, quando sempre la giovane donna, evidentemente ubriaca, ha addirittura tentato di denudarsi davanti le forze dell'ordine, continuando a insultare, minacciare e anche sputare addosso agli agenti che intanto avevano chiesto rinforzi ai carabinieri e alla polizia. I due giovani, per l'alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, sono stati quindi trasportati in ospedale per le cure del caso. Per i fatti del reato di cui i giovani si sono resi responsabili, entrambi sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Il giovane è anche stato denunciato per possesso ingiustificato di armi, poiché portava addosso un coltello di genere vietato. I due, inoltre, sono stati senzionati per le violazioni della normativa anti-Covid. agenti coinvolti anche in una rissa, dove l'attività d'indagine svolta dagli uomini della questura, supportata dai riscontri delle registrazioni delle immagini rilevate dalle telecamere di videosorveglianza cittadina, nonché con la collaborazione di alcuni residenti sempre del centro storico, ha consentito, in tempi brevi, di risalire soggetti coinvolti appunto in una rissa avvenuta nel centro storico di Ragusa, segnalata da alcuni passanti, che all'arrivo della volante si davano alla fuga per le vie cittadine, facendo perdere le proprie tracce. In occasione, poi, sempre dei controlli serali e notturni del territorio, il personale dell'ufficio volanti nel centro storico di Ragusa ha proceduto al controllo di due persone a bordo di un veicolo, che alla vista della volante ha tentato di fuggire. Immediatamente bloccati e perquisiti, il passeggero è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato, mentre il conducente è risultato sprovvisto di patente di guida. Inoltre, e infine, un giovane è stato deferito all'autorità giudiziaria in quanto trovato in giro senza mascherina, come se non bastasse avrebbe anche rifiutato l'invito degli agenti a indossarla, per tale motivo è stato anche sanzionato per violazione della normativa anti-covid.